Amici, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del Fanta Calcio. Oggi martedì 20 aprile, stasera si giocherà, inizierà la giornata numero 32 di Fanta Calcio, quindi grande attenzione per quanto riguarda le proprie formazioni, diamo un occhio a tutte le partite, quindi massima massima attenzione. Turno è fra settimanale, quindi la presa con le corde anche questa settimana, quindi massima massima attenzione, come detto prima, siamo nel bel mezzo della bufera per quanto riguarda la Superrega, quindi può succedere veramente di tutto, e nel frattempo noi stiamo concentrati per quanto riguarda il Fanta Calcio, quindi seguiamoci, coordiniamoci con massima tranquillità per questo match. Vi ricordo, prima di partire, di fare l'iscrizione al canale YouTube, in caso alcuni siete ancora iscritti, grazie di cuore appunto a chi vorrà fare un po' di condivisione, di pubblicità del canale, con i vostri amici, con i vostri contatti social, quindi veramente un grazie di cuore. Sono sempre attivi gli abbonamenti, questi li sto sponsorizzando parecchio, visto che il canale si promette di crescere in maniera abbondante, quindi quota 4.000 entro maggio e quota 5.000 entro quest'estate, è un obiettivo raggiungibile. Gli abbonamenti sono di tre tipologie, l'abbonamento avviteranno base, costa 2.99 al mese, l'abbonamento avviteranno top, costa 6.99 al mese, l'abbonamento avviteranno full, costa 9.99 al mese, permette di dare vantaggio esclusivi, e il canale sesto, come vedete, non sta assolutamente cambiando. Partiamo col primo match di anticipo stasera, Verona-Fiorentina, ore 20.45, un Verona che di fatto ha pochissimo da dire a questo campionato, mentre la Fiorentina non deve essere risucchiata nella zona bassa di classifica, quindi una partita che la Fiorentina deve per forza cercare di vincere in questo match. In Verona avrà Silvestri in porta, Di Marco ancora ha retrato nel terzetto difensivo con Gunter e Davidovics. Sugli esterni di centrocampo ci saranno Lazvic e Faraoni, Baracca e Tamezzi in mezzo al campo, con Illich a supporto di Zaccagni e Lasagna, da verificare appunto le posizioni sia di Baracca sia di Illich, se saranno confermate o se ci sarà una inversione rispetto a questo schema. Per quanto riguarda la Fiorentina, Dragoschi in porta, Kasser, Speziale e Martinez guarda in difesa, venuti i biraghi sui esterni di centrocampo, Castrovilli, Pulga e Amarabatti in mezzo, con Vraovic e Ribele di punta. Mi aspetto una vittoria in questo caso della Fiorentina, con gola anche di Vraovic che torna al gol, dopo qualche giornata di stop. Per quanto riguarda appunto il Milan, il Milan in casa contro il Sassuolo, ci sarà Donnarumma in porta, ancora Assente Calabria, ci sarà Dalò a destra e Hernandez a sinistra, Romagnoli e Chieri in mezzo, che si e Tonali come Cerniere di centrocampo, Rebic, autore di un gran gol contro il Genoa ancora confermato, Sali Makers a destra, Ciola Novo, l'Utego Artista, e Ibrahimovici di punta che torna dopo una giornata disqualifica. Milan, che vedo ancora favorito in questo match, Sassuolo che di fatto ha vinto contro la Fiorentina, quindi è abbastanza sazio, ma comunque mai dire mai perché la squadra di Zerbi, che tra l'altro è un odore di Shakhtar Donetsk, può fare comunque molto bene a livello di bonus, ci sarà Consigli in porta, Tolian più di Muldura a destra, Rogerio a sinistra, Ferrari e Chieri che si mezzano la difesa, Lopez autore di un bellissimo gol, Colocatelli a suo fianco, Diurici c'è traquartista, Boga a sinistra, Berardi a destra che rientra dal primo minuto, dopo la bellissima doppietta sul rigore contro la Fiorentina, e Raspadori, vista ancora l'assenza di Bomber che ha putto davanti, vedo un 1-6 in questo caso per il Milan contro Sassuolo. Bologna-Torino, scontro che di fatto sta avendo quasi una metà classifica, perché Bologna ha vinto contro lo Spezia 4-1, il Torino ha vinto contro la Roma, è uscito un po' dalle zone basse di classifica, vedremo se appunto il Toro riuscirà a confermare quanto meno un risultato positivo in questo match, Skolupski in porta per il Bologna, con Dix e Sivesti sui esterni di difesa, Daniele Sumarò in mezzo, Dominguez e Svamberg, la mediana centrale, Sansone a sinistra, Ursulini confermato a destra, Soriano trequartista, e Baolo di punta, anche in questo caso vedo un Bologna che può essere da gol. Il Torino, 3-5-2 per la squadra di Nicola, Milinkovic in porta, vista ancora l'assenza di Siriu, che potrebbe rientrare a brevissimo, Bremer, un clou e inizio la difesa centrale, difesa a tre, Ansaldi a sinistra, la singola a destra, Verdi, Mandragola e Lucici in mezzo, con Berotti e Sanabria, ottima coppia d'attacco per questo bellissimo Torino, in classifica. Per quanto riguarda il Crotone, Crotone e Samp, Crotone ormai condannato alla retrocessione, la Samp che è tranquilla, quindi potrebbe essere una partita da abbastanza bonus, Corbaz in porta, Luperto gole, Miche Gigi in difesa, Reca e Morina sui esterni centrocampo, Petricione e Zanellato in mezzo, Unasse e Messias a supporto di Simi, in questo caso vedo Paracchi e Gol, quindi una partita che può essere veramente foriera di bonus, per quanto riguarda i fantacalcisti. La Samp con un 4-4-2, Udero in porta, Augello e Beresischi sugli esterni di difesa, Tonnelli quale in mezzo, Candreva e Jacto più di Downsgard a sinistra, Torsby e Silva in mezzo, Quagliarele e Gabbiadini, per cercare appunto di fare tanti bonus, una partita che ha pochissimo da dire per la classifica, dico gol per entrambe le squadre. Per quanto riguarda la Juventus, obbligata a vincere in casa contro il Parma, Buffon in porta, l'ex di turno, Sandro a sinistra, Danilo a destra, con Bonucci e diritto in mezzo, Ramsey e Quadrado potrebbero sostituire, a centrocampo sia Chiesa che Kolusevski, Chiesa assente, Kolusevski potrebbe partire dalla panchina contro la sua ex squadra, Arturo e Betancur in mezzo, Ronaldo e Di Bala, quindi Morata potrebbe partire dalla panchina a questo match. Parma, che appunto ha pochissime speranze di salvezza, 4-3-3, sarà assente Kucca, forse, da verificare, Sepe in porta, Pezzella Busi in difesa, Conosori e Gagliore in mezzo, Kurtis, Brugman, in mezzo, Kucca appunto in dubbio, in caso di assenza di giocare a mano, a sinistra Gervinio e di punta Pellemeli, che in questo caso, uno fisso per la squadra di Andrea Pirlo. Genoa bene via, in partita che per il Genoa ha quasi poco senso, mentre per il benimento ha una sfida di salvezza importante, per in importa, Criscito, Radovano e Cemaziello in difesa, Silboa e Beraschi sugli esterni, ma attenzione, potrebbe recuperare anche Zappacosta, Zai, Cebadelli in mezzo con Strotman, Shomorado e Destro, che sono le punte per questo match, visto che Scamacca potrebbe partire leggermente indietro, nella giocchia di questo match. Per quanto riguarda invece il benevento, ci sarà un 3-4-2-1, molti po' in porta, Grick, Tuglia e Barba in mezzo, con Etemai e De Paoli sui esterni di centrocampo, Schetterale e Ionita, con la Padula, Letizia e Gaica a supporto, da verificare appunto se sarà del match o meno Viola, con il suo ingresso, comunque ha cambiato un po' le sorti del match, anche se comunque è stato perso contro la Lazio, io tifo per Capitano Viola in questo match. Vedo un X2 per il benevento, sperando appunto che possa un po' uscire dalle zone basse di classifica. Udinese-Cagliari, anche qua un match importante per quanto riguarda soprattutto la squadra esterna, Udinese avrà Musso in porta, Samir, Nuitnik e Bekao in mezzo alla difesa, Zeghler e Larsen sui esterni di centrocampo, con Woda, Sarsana e Pereira in mezzo, vista l'assenza di De Paul per squalifica, Iorente e Forestieri di punta, poco da dire appunto per Udinese, mentre molto da dire per il Cagliari, che avrà Vicario in porta, vista ancora l'assenza di Cragno, Carboni, Gudino e Rugani in mezzo alla difesa, Nandez e Zappa sui esterni di centrocampo, Duncan, Angolano e Marini in mezzo, con Pavoletti, Gio di punta, in questo caso dico, anche qua dico X2 per il Cagliari appunto, sperando che possa come per il benevento, uscire dalle zone basse di classifica. Per quanto riguarda invece Spezia-Inter, un match importante a livello scudetto per l'Inter, lo Spezia deve stare attento a non farsi risucchiare dalle parti basse di classifica, la squadra Ligula avrà a provvedere in porta, Marchizza e Ferreri sugli esterni di difesa, con Eric e Chabot in mezzo, Maggiore e Ricci e Stavitz in mezzo al campo, Giasi e Verdi esterni, con Zola che speriamo finalmente possa tornare a fare bonus, ma prevede un bonus più importante per domenica prossima, per Balazzo. L'Inter 3-5-2, ci sarà forse Perisic dal primo minuto, Andanovic in porta, Bastoni e De Vrieschini in mezzo alla difesa, appunto Perisic e Hakimi sugli esterni di centrocampo, Eriksen, Brozovic e Baranel in mezzo, con Lukaku e Martinez di punta, quindi la formazione tipo per la squadra di Antonio Conte, anche in questo caso dico X2 per la squadra esterna. Roma-Atalanta, una sfida importante in ottica Champions, Lopaz in porta, Ibanez, Cristante e Mancini in difesa, Calafiori, visto che ancora Spinazzola non è prontissimo, con Cardo dopo a destra, Vigliari e Verdi in mezzo, Pellegrini e Mkhitaryan al supporto di Zecco, per una bellissima Roma che vuole fare bene contro l'Atalanta. Per quanto riguarda appunto la squadra aerobica, Golini in porta, Gossens e Strohi in difesa, con Gensitti e Romero in mezzo, Frailer e Deron, Cerniere nel centrocampo, Ilicic, Pessina e Marinoski come mediana, supporto di Zapata, potrebbe partire in banchina questa volta, Luizito Muriel. Vedo tanti gol in questo match, vedo un'Atalanta favorita, dico 2-2 per questa partita, potrebbe essere un risultato che sicuramente potrebbe uscire per questo match. Chiudiamo con Napoli-Lazio, anche qua sfida Champions, Meretti in porta, Mario Lui di Lorenzo in difesa, con cui li vedevano un'asse in mezzo, Bakayoko e Ruiz, come un po' frangifrutti, in mezzo al centrocampo, Insigne, Zenisch e Politano, supporto di Usimen, un bellissimo Napoli, il filo da torcere sicuramente all'Inter, e darà del filo da torcere anche alla Lazio. La Lazio e la squadra di Simone Inzaghi, si schiererà con un 3-5-2, Rene in porta, Radu, c'è di Maruzic in mezzo, Lui dice, Lazare sui esterni in centrocampo, Luiz Alberto, Leva e Beninkovic in mezzo al campo, con Immobile e Correa, quindi anche qua, formazione tipo per la squadra di Simone Inzaghi, anche qua vedo bonus in abbondanza, vedo un X come potenziale risultato, staremo a vedere se appunto X con gol, potrebbe essere un risultato, che è un pronostico che può essere azzeccato. Io vi ricordo che, come sempre, siamo attivi in qualsiasi momento, sul canale del Terreno del Fantacalcio, sempre pronti per darvi supporto per qualsiasi necessità, vi ringrazio nuovamente gli amici di Magic Goal per queste bellissime grafiche, con loro abbiamo pronto un appuntamento per il prossimo anno veramente importante, quindi seguite e scaricate la loro app, se non l'avete ancora fatto. A brevissimo usciranno indicazioni per quanto riguarda i fanci europei, la Superlega sta mettendo un po' di informazioni, come dire, abbastanza pesanti per il prossimo campionato, staremo a vedere quali saranno gli sviluppi, vi ricordo che appunto sono sempre attivi gli abbonamenti, di tre tipologie, l'abbonamento veterano base, costa 2,99€, l'abbonamento veterano top costa 6,99€ al mese, l'abbonamento veterano full costa 9,99€ al mese, permette di avere vantaggi esclusivi, non cambia nulla di valentare il palinsesto, ma permette di migliorare ancora di più il canale del veterano. Se invece volete fare una condivisione del canale con i vostri amici, è sempre molto condiviso, molto apprezzato questa condivisione, vi ringrazio in anticipo per quello che vorrete fare, in modo da arrivare a 4.000€ il più velocemente possibile, a quota 5.000€ entro quest'estate. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione che rivolgete quotidianamente al canale del veterano di Fanta Calcio. Grazie di cuore, vi ricordo che Fanta Calcio è il gioco più bello del mondo per calcio, quindi siamo protagonisti di un bellissimo gioco, vi auguro buon proseguimento di giornata, buon Fanta Calcio a tutti e buona giornata. A presto ragazzi!